Lo sai invece che per De Luca il Varese ha portato a compimento tre appuntamenti, cioè ha incontrato tre club, il Parma, l'Atalanta e il Catania. La situazione è ancora poco chiara, perché anche Maran spinge per avere De Luca e il Varese pone delle condizioni, nessuna contropartita tecnica se ne parlerà anche domani. Lo sai che Djokovic della Cesena è ad un passo dal Novara? Lo sai che abbiamo detto anche prima, ti ribocchi, aspetta, aspetta, aspetta. Dalla Lazio è volata a tre, Chievo, Torino, Bologna. Lo sai che il Catania, ha parlato Sergio Gasparini, Nicolo Lopez apprezzo le sue qualità, ha detto. Però io penso che difficilmente arriverà, mi sbilancio, ma tre giorni alla fine del mercato non bisognerebbe dire così, non credo che sia un'operazione al momento caldissima. Lo sai che in conferenza stampa ad Udine Francesco Guidolin ha detto stasera andrò a casa e farò delle profonde riflessioni. Torino Petracchi lavora ancora a due colpi nel Mirino, un centrocampista centrale. Viste le difficoltà per Sergio Almiron, Ventura ha suggerito alla dirigenza il suo ex pupillo dei tempi di Bari, Donati, che piaceva anche all'Atalanta. Il giocatore potrebbe lasciare Palermo e Torino sarebbe perdonato in una destinazione gradita. Comunque vuole andare via da Palermo.